Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 24 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta sul DAX e sul Fruzzimib. Iniziamo dal Fruzzimib questa volta. Apriamo con future decisamente ribassisti, quindi è un peccato non essere rimasti in overnight perché abbiamo meno 285 punti e vi do una notizia di estremo valore, un'informazione di estremo valore. Se andremo a confermare un'apertura sotto i 20.217, andremo a violare uno swing estremamente importante, probabilmente invisibile per chi non conosce l'analisi ciclica evoluta, e se vogliamo confermare anche dai volumi dopo la partenza dell'undicesimo T-3, che non penso più possa essere partito da qua, facciamo già questa correzione, avremo la conferma che sta partendo perlomeno un T settimanale inverso da qua sopra, se non qualche cosa di più. Per cui il qualche cosa di più era quello che vi dicevo già da un po' di analisi, giusto? Per cui il programma potrà essere apertura con ribasso. Successivamente andiamo a misurare il tempo ciclico e vediamo quanto tempo abbiamo ancora per andare a chiudere al decimo T-3, ovvero abbiamo ancora al massimo qui 13 barre, 4, 8, 12, sono 3 ore e un quarto, dall'apertura quindi fino alle 12 e un quarto, al massimo per continuare a spingere il più possibile in giù, oppure una barra e poi rimbalzo, attenzione perché siamo già oltre le 24 barre da 15 minuti minime. E con la prossima andiamo a 32 che è già una durata media. Successivamente vedremo, appunto, uno se sarà soddisfatta questa cosa, due se avremo la partenza dell'undicesimo T-3 e in violazione di uno swing inverso continueremo a darci il short. Se avremo le conferme, se ci saranno i volumi, tutte cose che vedremo e possiamo vedere solo esclusivamente a mercato nelle prossime ore. Vi faccio notare che, tra l'altro, vi facevo vedere che stiamo per entrare in death cross, con l'apertura che avremo andremo in death cross. E questo può provocare un'accelerazione, sempre per un eventuale undicesimo T-3 di indice, e sempre per una discesa ancora più forte. Anche perché la stiamo aspettando, stiamo aspettando un ritracciamento. Se andiamo a prenderci anche solo questi strumenti. Dunque, andremo a bucare questo. Se volessero veramente spingere pesantemente quest'oggi, potremmo anche andare sotto i 20.000 punti. Ok. Peraltro, insisto nel dirvi che da questo massimo può non essere partito soltanto un T-inverso, ma anche il secondo T più 2 inverso, il secondo mensile inverso, che richiede molta più discesa rispetto a quella che per ora stiamo facendo. E quindi, livelli di ritracciamento ancora più bassi. Ok. Quindi, l'individuazione di una possibile shooting star data lunedì, quanto sta pagando in questo momento? Per quanto riguarda il nostro DAX, invece, se verrà confermata l'apertura a meno 196 punti, wow, stiamo ancora aumentando, a noi interessa capire se dunque, con un'apertura a tono ai 12 e 900, 12 e 9, qua, ecco qua, già gli allarmi che partono, perché stiamo andando sotto, appunto, andremmo a violare, lo swing passava a... questo se non mi ricordo male... devo ricontrollarlo, comunque, stiamo per andare in violazione di uno swing estremamente importante, anche per quanto riguarda il DAX, anche questo non solo ci darebbe la conferma della partenza di un T inverso, ma oltretutto ci permetterebbe di andare in chiusura di decimoti meno 3 e quindi riflessioni sulla durata massima, le facciamo anche qui, massimo 9 barre di discesa, ma nulla vieta che si apra, si chiuda il decimoti meno 3 e poi si provi a ripartire verso l'alto con le solite finte che fanno tra le 9 e le 10.01. Per cui, occhio anche in questo caso, discesa, eventuale partenza di un dicesimo T-3, valutare da che swing di inverso, eventualmente, con volumi, andare short ancora per la giornata di oggi. Successivamente, il programma è molto simile a quello che avremmo appunto per Fruzzi Mib, ovvero partenza di un T inverso, qui non l'avevo neanche messo, allora, partenza da qui di un bel T inverso o qualcosa di più. In questo momento, teoricamente, avremo persino la condizione sufficiente per dare un T più 1, ma per ora segnaliamo un T. e andiamo a segnali già la candela anche di oggi, quindi 4. Successivamente, come detto, se non ci sarà praticamente più il rischio di andare a fare un quarto T inverso vincolato a ribasso, la spinta per la partenza di qualcosa di più in più di un T, e cioè di un T più 1 inverso, ci potrà riportare decisamente più in basso. Anche in questo caso, se non disponete come me di un algoritmo, vi prendete anche soltanto Fibonacci e potete vedere che se già probabilmente per oggi arriveremo in quest'area, poi, se partirà appunto il T più 2, potranno tranquillamente andare a uno 0, 50% di ritracciamento, ovvero con un target a 12.414, se non di più. Si vedrà. Questo comunque è quanto, non soltanto come vedete per oggi, ma anche lui che aspita. Forse sarà questo, se non mi ricordo male. 961, no. Si, dovrebbe essere 961 se non mi ricordo male. Per cui, come vi dicevo, il programma è vediamo dove chiude il decimo chiudono 3, facciamo partire l'undicesimo, se ci sono volumi, prepariamoci per un altro esempio short, un altro aggiornamento dei miei. Vi ringrazio per il vostro tempo e ricordatevi sempre, se avete bisogno di materiale gratuito per partire con l'analisi ciclica, non l'è voluta, posso tranquillamente fornirevi degli appunti che sono stati dati decenni fa a me e trovo corretto diffondere appunto questo genere di materiale gratuito per tutti, con il quale ho iniziato anch'io. Successivamente sappiate che ho due gruppi Facebook in cui coordino trader e faccio gruppo. A me interessa creare un ecosistema di persone in grado di non soltanto assorbire ciò che posso dare con la ciclica voluta, ma anche di farmi vedere da prospettive differenti il mercato in modo da poter creare un connubio che sicuramente paga per tutti. Perché a noi interessano zero polemiche mi interessa più che altro sempre andare a fare trade in game. Peccato io di sera appunto non essere fermati forti. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata.